O invito Martire, Sebastiano, che ci hai lasciato un esempio di fortezza, accettando le torture dei carnefici, per rimanere fedele a Cristo. Sostieni la nostra Chiesa della fedeltà al Vangelo. Tu, che hai disprezzato la mediocrità e i compromessi, insegnaci il valore della coerenza. E ottienici la forza. Di non piegarci a minacce e blandimenti. Tu, che hai preferito. Obedire a Dio piuttosto che agli uomini. Guidaci nella perfetta obbedienza. Alla volontà divina. Tu, che con cuore grande. Hai servito Gesù nei poveri e negli emarginati. Rendici sensibili ai bisogni dei fratelli. Tu, che hai gridato il Vangelo con la vita. Aiutaci a diventare costruttori del Regno di Dio. Che è Regno di verità e di vita. Di santità e di grazia. A te e alla tua potente intercessione. Raccomandiamo a fiduciosi tutti coloro. Che si affidano alla tua protezione. Le nostre famiglie. Perché custodiscano l'amore. Gli adulti. Perché diventino operatori di pace e di giustizia. Gli anziani e i morenti. Perché guardino con serena fiducia al traguardo che li attende. I ragazzi e i giovani. Perché siano coraggiosi testimoni di Cristo. I peccatori e gli erranti. Perché riscoprano la bontà del Padre. E la dolcezza del suo perdono. O San Sebastiano. Nostro amico e protettore. Con te e per te. Rendiamo gloria a Dio Padre che ci ha creati. A Dio Figlio che ci ha redenti. A Dio Spirito che ci ha santificati. Amen.